Si inventò questa cosa per cui, geniale di fare metà trasmissione a colori, quella che lui considerava frufru, quella fatta di ballerine, di cantanti, di cose che non gli piacevano e che era, come dire, abbandonata a Sandra con i lustrini. Mentre lui voleva fare una cosa impegnata e si era inventato questa cosa del cabaret, proprio col K, come dicevi tutti, noi avevamo la sigla del Moritet, dell'opera a tre soldi, un deraifisch che andava detta assolutamente in tedesco, con le bombette nere, tutti in calzamaglia nera, che eravamo una cosa veramente patetica. Io ancora oggi la gente mi ferma per la strada e si ricorda il pezzo del cabaretto in bianco e nero e fu una delle tante idee geniali che loro avevano avuto nel proporre un varietà del sabato sera, che era un varietà del sabato sera, ma con l'ironia sul varietà del sabato sera, quindi era stata una cosa veramente geniale. Lui si era inventato la zona in bianco e nero, noi ogni tanto facevamo una scappata anche nella parte a colori, però poi lui si arrabbiava ed era la zona in bianco e nero nella quale lui non voleva i professionisti, ma i suoi collaboratori, cioè il barman, il suggeritore, che erano diventati formalmente per lui gli attori e contribuivano a fare questo spettacolo.